E' già pubblicato all'albo pretorio del comune di Mascali, il bando è il disciplinare di gara per l'affidamento in concessione del servizio gestione parcheggio a pagamento mediante parcometri, comprensivo di fornitura e installazione dei parcometri per l'ormai imminente stagione estiva sul litorale mascalese. Saranno 20 parcometri da installare, 19 su via Spiaggia e 1 su via Torrente Vallonazzo. Il valore dell'appalto, IVA inclusa, è di poco inferiore ai 40.000 euro, calcolato sull'importo totale lordo e incassato mediamente negli ultimi due anni. La fornitura del servizio, noleggio, parcometri verrà affidata alla migliore offerta percentuale sugli incassi totale lordi e potrà essere solo in rialzo, partendo da una percentuale del 65%. L'impresa che volesse partecipare alla procedura di gara appena d'esclusione dovrà fare pervenire la propria offerta corredata della documentazione per scritta all'ufficio protocollo del comune di Mascali, sito in piazza Duomo, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10 del prossimo 26 aprile. I plichi pervenuti all'ente saranno aperti lo stesso giorno della chiusura dei termini, presso il comando di Polizia Municipale, sito in via Nuova Stazione.